Ben tornati con questo nuovo episodio di Bersaglio Illusivi, beh vi spiego che beh ho dovuto creare un altro accanto alla bavaria per farla meglio, cavolo, a trovarlo e ce ne vuoi, ce ne vuoi a trovarlo, quello giusto, quindi vi spiego una cosa, se non trovate il bersaglio giusto, se avete ucciso rinunciate da questi tre, ricominciate dall'inizio e fino a quando non siete riusciti a farlo correttamente, cavolo, e io mi chiedo, come si fa quando sto per riavviare la partita, che diavolo, eeeh, ma è, ma l'ha fatta fallita, non ho voluto il tempo di riavviare la partita che stavo con il bang, ah, in questo caso speriamo di farlo meglio, ah, visto che è questo, dico, io direi che è questo, questa volta spero di averla, di averlo fatto bene, di aver ingarrato almeno questo qui, perché i due tentativi sono proprio, falliti, eeeh, innocente ucciso, beh, pum, riaviamo alla partita, e innocente ucciso pure con l'altro, e spero che con questo vada bene, ma prima, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, parlo piano perché è sera, è tardi, qui, ero, è gente che dorme, io per ora voglio fare un po' di punti, beh, perché gente qui non lo sopporto, eh, sì, eh, non ho fatto niente, stavo solo la rete a rete, tu che fai? vabbè, vado di qua, vediamo un po' di tempo qui, eh, no, va bene, eh, dai, no, mo, te metti a dormi, dormi, bello, dormi, bello, dormi, meglio che lo metterò dentro, se no, se esco quello lo vede, so, cavoli miei, finalmente sono riuscito a fare questa salta, in tasto, se esco questo nuovo, ve lo dico, che diamine, e ad attirarlo ce l'avevo, no, non è venuto, eh, non è venuto, no, infatti, ma che, non viene, ma dai, ma come non viene, eh, no, questo non mi va bene proprio, questo te lo lo adoro, nonostante tutto, non mi va mai bene nulla, no, finalmente è venuto, dai, 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 a dormerci, io mi chiedo, non posso perché volevo riavviare, e non è stato cosa, me l'ha segnata fallita, sull'altro, eh, dopo capirete il perché, eh, gli altri riusciamo a, a mandare questo qui, questo, questa gente non lo sopporto, no, se ne sta andando, non è che, no, se ne sta andando, ma che diamine, si, bravo, vieni, bello, vieni, no, ce ne sta andando, no, questo non va bene, eh, no, questo non va bene, no, questo ne sta andando, patetito quello, e io che sto andando a pressa, ma che sta a fare, il modello, no, no, meglio che te ne vai a dormire, bello, beh, la porta è chiusa, eh, perché mi stai a dire chi sta, io non ho fatto niente, eh, no, questo deve essere cerca, e questo se ne cerca, no, no, così non va bene, che dice un po' di martellaccio in capoccia, becca di questa, basta, la prossima volta evita di parlarmi, eh, metti di qua, l'appuntamento è saltato, è bello, questo non lo sopporto più, basta fare, attenzione, l'ho tirato in quel bagno, io riesco a prenderlo, eh, scusa, mi dispiace signora, ma jensen è, ma quel johnson, johnson, chiunque sia, è indisposto, è chiuso in uno sgabuzzino, un armadietto, spiacente signora, ma qua, non verrà nessuno, vediamo se riusciamo a beccarlo quello, questi due li avevo uccisi, quest'altro che sta a studiare, questo qui, l'ho buttato da sotto, ma quello non è esatto, pure l'altro con la benda sull'orecchio, nemmeno, scusate che potremo pure ascoltare la conversazione di quel tipo, della nostra, ecco è quello, no, non ha nulla sulla faccia, lasciamo vedere, seguiamolo, ormai mi sono divertito un po', dai dai, forza bello, vai, 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 ti prego, dai, spingiamolo da sotto, mo lo ho spinto da sotto, ciao bello, scusa, mi spiace bello, io vado via, è andato da solo, è andato da solo, scusate il lavoro in corso, si poteva pure evitare, e quasi manco l'hanno visto, manco l'hanno visto questi, o mamma, meglio così, andiamo con calma, beh, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete, e iscrivetevi al mio canale, se ancora non l'avete fatto, condividete con un amico, che gioca isma, e gli haters, no, sarebbero pure andare a quel paese, ma vado con calma, con calma, e quei tizi, mi sa che, mi faccio un bel giro qua, ciao belli, l'aria scoperta, grazie, e io me ne vado, e con questo è tutto, vi saluto gente, ciao, alla prossima!